Volevo di solo una cosa rapida, proprio rapida rapida, veloce veloce perché in questi ultimi giorni mi sono fatta due palle così con sta Greta Menchi ragazzi E il fatto qua non è lei, siete voi ragazzi che ci state a far girare tutto il mondo attorno a sta Greta Menchi Io adesso non so qua per difendere lei perché non me ne può fregare de meno Ma vi prego, basta smettetela perché non vi rendete conto che se ste persone ci hanno già nego che arriva al soffitto Parlandone, sparlandone, criticando non vi rendete conto che l'ego adesso a questa gli arriva al firmamento, capite? Non vi rendete conto che l'unico modo per far sgonfiare sta gente è l'indifferenza Fate l'indifferenza, vi prego ma che ci guadagnate voi a star lì a parlarne, a sparlarne, a giudicare quello che dice, quello che non dice, quello che fa, quello che non fa Ma chi se ne fotte ragazzi vi prego basta smettetela di far ruotare YouTube attorno a Greta Menchi Avete fatto due palle così, avete fatto una testa così L'ego a ste persone glielo fate crescere voi che state lì a sparlarne e non ve ne rendete conto Capito che ci volete guadagnare bei soldini ragazzi però veramente cioè fate ruotare i vostri video a sparlare di sta gente che invece ce gode, capite? Ce gode, non ve ne rendete conto che ce gode quella che voi state là a sparlarne e si gonfia e si gonfia e si gonfia Dovete far sgonfiare sta gente facendo finta di niente, facendo finta che non esistano Tanto il suo seguito ce l'ha, continuerà a avercelo che voi state lì a criticare Ma che ci ottenete? Ci ottenete soltanto de gonfiarla ancora di più ragazzi per cui vi prego Basta, smettetela Ho finito